L'ultima ordinanza emanata dal presidente della giunta regionale Christian Solinas prevede misure urgenti per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19 con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani. Sino al 15 ottobre, nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata dovrà essere interrotta. I rifiuti dovranno essere chiusi in un'unica busta insieme a plastica e organico mentre le mascherine e i guanti avranno una busta a parte ben sigillata. Una decisione che comporterà non pochi problemi soprattutto alle dite di smaltimento dei vari comuni dell'isola che dovranno riorganizzare la modalità di ritiro. Compito dell'autorità sanitaria sarà quello di comunicare tempestivamente ai singoli comuni nomi e indirizzi dei soggetti positivi al tampone in modo da gestire la raccolta di rifiuti in piena sicurezza e senza esporre a pericoli gli operatori ecologici.